Il tavolo provinciale per l'ordine di assicurazione pubblica non è stato manifestato alcuna preoccupazione rispetto a un clima di terrore, di impossibilità di vestigiare quant'altro. Però in dubbio è positivo che ci sia questa richiesta da parte delle posizioni per approfondire e l'auspicio è che ovviamente tutti quanti si faccia di più, si deve fare di più, a partire da chi ha i compiti istituzionali rispetto alla sicurezza pubblica, che è solo un ente. Il Ministero dell'Interno con tutte le sue delegazioni e noi siamo pronti, come abbiamo dimostrato con le nostre forze del Polizia Locale, anche degli interventi straordinari in giro per la provincia, penso a Malpensa, penso ad altre iniziative analisi. Quindi ben volentieri, di enti locale, in particolare il Comune di Varese, disponibile a collaborare in maniera intensa a fronte di una direzione, a fronte di dati certi, che non sono, a quanto mi risulta fino a questa mattina, quello che ho sentito questa sera da alcuni esponenti dell'opposizione. Grazie!